Allora siamo ritornati. Eccoci di ritorno dal vuoro. Allora, com'è stato? Molto bella, molto bella, divertente, adrenalinica. Alla grande, ah dai. Anche se stavo in una culla, ma va bene, ero stesso. Una culla? Cioè stava sul morbido, in poche parole. Vabbè, avete potuto vedere nei video. Il ragazzo si appoggiava fin troppo. Vabbè, tiene la panza. Stava fin troppo comodo, dai. Vabbè, vogliamo pure ringraziare i ragazzi di... Grazie mille per il volo. Vicilento è un volo, perché veramente sono fenomenali, professionali. C'è Domenico, eh? Giuseppe. Giuseppe, in carri settembre. Qui abbiamo... Angelo. Angioletto e poi vabbè, i ragazzi dell'equip, Massimo e il resto, stanno super. Ora ce ne stiamo andando con la navetta, sono attrezzatissimi questi ragazzi. Veramente un'eccellenza campana, io la consiglio a tutti. Esatto. A tutti diversamente abili consiglio di fare il volo. Dillo, dillo, Lore, dillo. Consiglio a tutti diversamente abili di fare il volo, perché tanto è da seduto, quindi è comodo. E non solo, cioè, ma a parte comodo, veramente sono davvero in gambe e professionali questi ragazzi. Comunque ragazzi, come già sapete, perché questa è una seconda volta, lo faccio in 15 giorni, quindi poi mi fanno pure l'abbonamento. bravo, Lore, ci veniamo più spesso, dai. Dobbiamo organizzare qualcosa di bello con questi ragazzi, va bene? Bravo, ciao a you, questa è questa bella esperienza. Ciao, ciao. Ciao, ciao.